Questa mostra è l'evoluzione di Fumetti dei Musei, il progetto del Ministero della Cultura nato nel 2017 per avvicinare nuove generazioni alla bellezza del patrimonio culturale e delle collezioni d'arte dei musei italiani. Qui a Lucca Comics sono in anteprima in mostra 52 autoritratti dei 52 fumettisti che hanno partecipato a quel progetto. Al termine di questa mostra le opere, grazie alla donazione che hanno fatto questi artisti, entreranno in modo permanente all'interno della collezione delle Gallerie degli Uffizi, una delle collezioni più importanti al mondo di autoritratti che spazia dal Rinascimento fino ai giorni d'oggi. Sarà quindi interessante nel nuovo allestimento che sta realizzando gli Uffizi assistere a un dialogo inedito e nuovo tra quelli che sono gli artisti che hanno fatto la storia dell'arte, i grandi artisti della storia dell'arte e questa nuova generazione di fumettisti che con grande vivacità e con grande forza si sta affermando non soltanto in Italia ma in tutto il mondo.